Noi col pianto perché siamo tutti disperati ma andiamo avanti con forza, non ci facciamo prendere assolutamente la mano. È scoraggiata ma non si arrende Daniela Zacchigna, titolare della Prestige che in una notte, quella tra il 20 e il 21 marzo scorsi, ha visto andare letteralmente in fumo la sua azienda. Il campo è quello estetico medicale, la Prestige che ha sede a San Giovanni Valdarno da appena un anno, tratta apparecchiature elettromedicali e prodotti di alta qualità da impiegare nel campo estetico. Il fuoco è partito da un focolaio esterno al capannone e quindi la pista dolosa pare essere la più probabile. Qualcuno ha buttato qualche cosa, anche una molotov, una bottiglia, qualche oggetto infiammabile eccetera e ha cominciato a bruciare del ferro, del comune ferro. Poi logicamente l'incendio si è propagato, ha rotto i vetri per combustione ed è andato oltre nel sottotetto. Difatti se voi vedete è il sottotetto che ha bruciato. Bruciando il sottotetto tutto ovviamente, tutto il fuoco è andato anche giù in tutta l'oggettistica che era di sotto. E quindi tutte le creme, tutti ovviamente, tutti i macchinari nostri, tutto è andato a fuoco. Nel rogo non si è salvato nulla, circa 300.000 euro l'ammontare del danno solo in una piccola parte coperto da assicurazione. Il fondo che ospitava il magazzino è stato preso in affitto circa un anno fa, prima c'era una palestra. Con esso i titolari hanno affittato anche altri locali adiacenti dove ci sono gli uffici e lo showroom e sopra l'abitazione dove Daniela risiede con il compagno e la madre anziana. Le indagini su quanto accaduto sono condotte dai carabinieri di San Giovanni Valdarno ma purtroppo, a parte la vicina di casa che si è accorta delle fiamme, non ci sono altri testimoni e non ci sono telecamere che abbiano immortalato i presunti piromani. Io sono triestina, ho sempre lavorato con i tutori dell'ordine per un altro mio lavoro e quindi se io ricevevo un'intimidazione del genere, senz'altro sarei andata immediatamente a denunciare il fatto anche perché ci credo nelle forze dell'ordine, quindi sicuramente non mi sarei fatta intimidire. Lancio un appello, chi ha visto qualcosa sa qualcosa, io sono disposta a dare fino a 1000 euro se qualcuno mi dà delle notizie valide a riuscire a capire il perché di questa situazione. Io ho perso tutto, ho 56 anni ma mi rimetto in gioco perché io sono figlia di Striani sono triestina, noi siamo caparbi, noi come l'araba fenice risorgiamo sempre.